50 destri ritardo a destra 3 per sinistra 2 2 50 destra 5 S a vista per destra 4 4 30 sinistra 3 30 destri destra 4 meno su dosso 30 sinistra 3 S a vista 30 addosso e subito sinistra 2 30 addosso e subito sinistra 2 30 destra 4 lunga 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 per sinistra 5 corta 5 corta 30 accenno destro e subito sinistra 2 subito 2 30 addosso subito sinistra 5 meno lunga per ritardo a destra 3 questo a destra 3 ritardo a non tagliare 50 destra 4 4 lunga lunga 30 sinistra 3 meno 3 meno 50 destra 4 corta 20 all'albero destra 3 3 in sinistra 2 lunga 2 tempi lunga 2 tempi 30 destra e molta attenzione destra 3 chiude 2 e quello che va giù ricordalo questo ricorda 30 attenzione cunetta per sinistra 3 sudosso lunga lunga 30 destra 2 2 per sinistra 2 sinistra 2 gira questo gira per destra 3 3 50 destra 4 per sinistra 3 condosso 3 condosso per destra 4 meno lunga subito destra 3 più subito 3 più qua 70 dosso vai e 200 shikan entra a sinistra 150 sinistra 3 sinistra 3 30 condosso e subito sinistra 3 attenzione subito 3 attenzione per destra 3 vai 3 vai 50 dosso 100 dosso albero destra 4 scusa albero destra 4 meno meno 50 sale 100 destri doppio dosso occhio doppio dosso 100 50 sinistra 4 corta ebete 4 corta 30 sinistra 4 con dosso 4 con dosso 30 destra 4 non tagliare su doppio dosso occhio 50 destra 4 sale 50 sinistra 4 con doppio dosso 4 con doppio dosso 50 50 basso 70 sinistra 3 lunga la 3 lunga e subito è la variante sinistra subito sinistra 2 ritardo resta 3 350 frasche sinistra 3 sinistra 3 50 accendo sinistro 200 all'albero destra 5 corta 5 corta 200 hai il destra 3 corta e la variante 3 corta e subito variante sinistra per destra 50 ritardo a sinistra 3 ritardo a sinistra 3 dosso sinistra 4 corta 4 corta in destra 4 4 100 sinistra destra 6 e 100 ritardo a sinistra 3 più lunga ritardo a sinistra 3 più lunga 50 destra 4 4 50 fine su sinistra 5